Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera reto autostradale toscana e sulla FIPILI. Sul raccordo Siena-Firenze è scambio di carreggiata tra Colle di Valdessa Sud e Badesse in direzione Siena. Sulla tangenziale di Siena è chiuso per lavori lo svincolo di acqua calda. Sulla statale 1 Aurelia riduzione di carreggiata per lavori tra i chilometri 226 e 231 tra Scarlino, Scalo e Riotorto in direzione Cecina. Scambio di carreggiata per lavori tra Fontevlanda e Montiano in direzione Grosseto. A Firenze lunedì dalle 13 alle 20 e 30 per le riprese del film Six Underground saranno interdette al transito Lungarno-Servistori e Lungarno-Cellini. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie!